musica oee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi tantissime novità veramente un casino per quello che riguarda il futuro di fortnite nel video di oggi parleremo di un sacco di roba le nuove skin che stanno uscendo la nuova collaborazione con un rapper famosissimo delle emoji che si potranno mandare in game insomma tantissime news però voglio ringraziare sempre tutti di voi tutti di voi non so cosa voglio dire tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro supporto ogni giorno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica nei miei video delle 13 e 30 nel video di oggi appunto tratteremo anche l'arrivo degli elicotteri eh sì ragazzi dai oramai non si può più non notare ci sono tante piattaforme in giro per la mappa che lasciano bene intendere che un nuovo velivolo sta per essere proposto in game e ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di fortnite ma due secondi per farvi la domandina lo sapete che ci tengo tantissimo a leggere i vostri commenti proprio qua sotto domanda di oggi molto secca ma a te come sta sembrando questa nuova season dai oramai sono già un paio di giorni che la stiamo giocando cosa ne dite io sinceramente sono soddisfatto mi piace tanto mi piace che ci sono le nuove location come vi dicevo mi piace tutto il discorso della storyline e mi piace quello che sto scoprendo insieme a voi per quello che riguarda i leaks e il futuro ditemi invece cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vedere sbadabam il nuovo torneo scoperto nei file di gioco si chiamerà hype night questo torneo sto già traducendo in italiano richiederà almeno 300 punti di hype per entrare e tra l'altro sarà aperto a tutti gli agenti questo torneo sarà esclusivamente di un round quindi mi raccomando ragazzi tanta attenzione non sappiamo ancora quando sarà disponibile larger rewards than normal quindi i premi saranno molto più grandi di quelli in cui siamo abituati a partecipare tanta tanta roba ragazzi appena saprò qualcosa lo saprete anche voi e andiamo avanti ragazzi con il nuovo argomento praticamente un piccolo riassunto di tutte le sei armi mitiche quindi con rarità ben più di leggendaria che possiamo trovare in game il primo si chiama lo skies assault rifle che è uno scar più potente poi abbiamo ancora lo skies grappler quindi il rampino a colpi illimitati il brutus minigun praticamente la minigun in poche parole in due varianti epica e leggendaria il muskless più più rifle il fucile pesante anche questo mitico dell'agente muskless il medas drum gun quindi la thompson tutta d'oro e per finire il tnt tinas kaboom bow quindi il l'arco molto più easy in italiano dire l'arco esplosivo ve lo ricordo queste armi le potete trovare rubacchiando le varie schede presenti nelle location nuove dagli scagnozzi quelli un pochettino più cazzutoni diciamola così ma andiamo avanti ragazzi ed eccolo qua guardate è meraviglioso come un raggio di sole il nostro amico scott treviso trevis scott sinceramente non so bene quale si pronuncia per prima penso che scott sia il nome questo la sala la dice lunga di quanto io sia informato sulla musica rap hip hop ma il signor trevis ma si chiama trevis o si chiama scott non ho mica capito sono due nomi scott trevis come si chiama scott trevis il nostro rapper ragazzi entra di diritto nella lista delle collaborazioni con fortnite perché vi dico questo perché da poche ore è stata scoperta proprio nei file di giochi una stringa di codice che si chiama proprio travis scott e sottoleggiamo namespace cosmetic set quindi sarà proprio un set probabilmente da skin piccone deltaplano non lo so non sappiamo ancora quando verrà inserita che rarità avrà anche se immagino abbia una rarità dedicata un po come tutte le skin un po particolari ma per tutti i fan sicuramente un ottimo modo per essere ancora più vicini al vostro beniamino e andando avanti ragazzi ecco qua un'altra curiosità veramente molto molto carina gli upcoming emotes that you let's shoot out to someone che cacchio vuol dire vuol dire che durante le partite voi potrete far partire dei file audio ok dell'emote al vostro avversario ve li leggo e poi vi faccio sentire qualcosa get to the choppa helicopter son one versus one bow to buga dang let go to god omg e gosh it's over yankens i have the high ground leroy e do this ascoltate un pochettino ragazzi alcuni file audio già presenti nel gioco insomma ragazzi molto davvero molto carina questa cosa ci sarà veramente da ridere perché potrete appunto proporli al vostro avversario in situazioni particolari staremo a vedere anche qui quando verranno inserite e sicuramente tante tante risate assicurate ma andiamo avanti ragazzi perché si parla di elicotteri questa immagine è veramente interessantissima come vedete mostra sorvolare sopra l'agenzia nell'isola centrale della mappa un elicottero dorato perché si parla di elicotteri a parte che abbiamo visto prima qualche secondo fa che una delle emoji si chiama proprio helicopter son quindi la canzone dell'elicottero ma la cosa più interessante le cose più interessanti sono due la prima è che dappertutto nella mappa ci sono dei punti di atterraggio per gli elicotteri non è che uno si sogna la notte di fare i punti di atterraggio per gli elicotteri probabilmente qualcosa si potrà in poche parole immaginare ma la cosa più interessante è proprio track queste parti di codice come vedete siamo proprio dentro i codici sorgenti e c'è scritto helicopter slot 1, helicopter slot 2, slot 3 e slot 4 domanda che cavolo sono questi slot? risposta non ne ho assolutamente idea nel senso l'unica cosa che mi viene o che ci viene in mente potrebbe essere che ogni slot è dedicato ad un posto per un passeggero quindi il guidatore più 3 il che vorrebbe dire il ritorno di un veicolo con 4 slot per trasportare completamente una squadra vi ricordo che l'ultimo veicolo è l'unico veicolo oltre l'elicottero oltre che faceva questo e oltre alla barca parca vacca quanti ce ne sono di veicoli che portano tutta la squadra e il era il caddy no il vecchio caddy che si trovava ai tempi di passatempi pomposi quindi ragazzi tanta tanta roba non si sa assolutamente ancora nient'altro per quanto riguarda gli elicotteri ma sarebbe veramente una grande figata e devo dire non so mi piace mi piace l'idea mi piace mi piace non so ma andiamo avanti e chiudiamo ragazzi il video di oggi con la skin iris l'avevamo già intravista ve l'avevo già pubblicata su instagram durante il giorno l'altro ieri insomma quando c'è stata la nuova season c'è solo un piccolo dibattito è una skin dedicata a un samsung perché di questo si parlava o è la skin dello starter pack la certezza non l'abbiamo però l'immagine del logo dei v bucks lascia ben sperare che possa essere semplicemente il pack da 5 euro che comprenderà appunto skin con uno stile backpack e piccone oltre a 600 v bucks quindi ragazzi molto bella è una delle più belle vista così sicuramente degli ultimi starter pack insomma chi potrà ovviamente lo prenderà io consiglio sempre di prenderli perché 600 v bucks vale davvero la pena insomma ragazzi anche per oggi tanta tanta roba io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai canali noi siamo in live sulla piattaforma viola ciao non parte mai quella cavolo di outro iscrivetevi ai canali